è poco per la morte no 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 la bomba ho sbagliato ho sbagliato salve sul video ragazzi qui con voi è mister Karachi e questo è un altro e dico che cazzo dico è un altro stronzo video in Battlefield Play for free dove sono io che farò tante stronzate perché alla fine cazzo da Karachi oh ma cos'è ma perché ogni volta che inizio a fare un video ma cos'è ma stiamo scherzando oh ragazzi io mi butto oh lì lì ma cos'è un cararmato no non è un cararmato oddio ma che cazzo per iniziato non posso morire subito a inizio video dai mettiamoci a riparo che bell'era mi sono riparato non è che mi potrebbero dare più 10 perché Karachi si è riparato no dai non siamo così in pericolo così bisognosi di punti dai noi siamo di ben altra stazza stazza in senso puramente spirituale che cavolo ok allora obiettivo e dico obiettivo di questa si intanto non so dove cazzo andare obiettivo di questa di questa di questa partita sarà quello di spaccare il culo a nemici ok chi è d'accordo con Karachi tutti siamo d'accordo con Karachi bene mi piace quando siamo tutti d'accordo ok ok se qualcuno mi dicesse che sto facendo qualche cretina ok buttiamoci oh ma che bellino ho usato i paracaduti almeno si dai diciamo oh mi stai laga tu ma perché mi laga tutto sto gioco è un gioco eh no mi laga e mi è uscito non avete visto non è colpa di Karachi è colpa del lag non è colpa del lag è colpa di Karachi lo so però non volevo non voglio ammetterlo ok dov'era e lì c'è qualcuno e lì c'è qualcuno se lo facciamo noi scappiamo la fuga è sempre l'arma migliore ragazzi io vi dico quando non sapete cosa fare fuggite 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 sciocchi lì c'è qualcuno da curare però ora che arri- oh eh eh ora che arri- innaccia non mi fanno parlare che continuano a sbucare omini arancioni non è bello tutti questi eh ma tipo tu potrei riuscire ad ucciderti se solo stai stai fermo un attimo e fatti mirare con calma ma perché ma non si fa tutte queste mosse qua ma pari io quasi quasi ricarico l'arma tanto siamo qua in un posto bel protetto no che bello ricarica ricarica andiamo avanti eh però continuo a vedere un'altra scala allora saliamo alla fine se hanno fatto una scala qua vuol dire che c'è qualcosa di bellino qua c'è qualcosa di bellino eh che cazzo sì eh porca porca sì ma quello 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 è un cecchino forse non dovrei sfidare un cecchino dalla distanza critical e sto coglione mi ha rubato la kill ma non ci posso credere però dai effettivamente simpatico glielo concedo c'è qualcun altro ma scusa noi potremmo anche andare a prendere questa base qua perché ce ne stiamo lì come come due due simpatici omini eh quello potrei ucciderlo quello potrei ucciderlo se so ma stai fermo perché quando cerco di ucciderti non stai fermo ok sperate eh che cacchio era mio ma basta rubarmi le kill ma sei orribile veramente ma porco cioè ragazzi io non capisco queste cose questa questa moda di rubare le kill alle persone ma che ma stiamo scherzando intanto cos'è chi è che ha bisogno di un medico oh chi è che ha bisogno di un medico oh venite qua ecco lì ecco lì scusate ho avuto un momento un piccolo lag al cervello ma voi sicuramente mi perdonerete perché siete tutti quanti dei piccoli carati boy in miniatura io vi adoro per questo ma quanto cazzo vi adoro ok tu sei amico o nemico sei amico ok allora ah ho preso la base senza fare niente che bello mi piace prendere le basi senza fare niente è una cosa molto figa cioè beh nel senso buono del termine che cavolo ragazzi non capite male voi sempre siete sempre così maliziosi ma porco mondo andiamo di qua o andiamo di qua andiamo di andiamo qua c'è una scala e non lo so e che cavolo ho detto ragazzi le scale bisogna salirle c'è solo proprio una tentazione eeeh ma qua c'è c'è una terrazza hai capito dove ti portano le scale se effettivamente è meglio se scendiamo perché qua non c'è un cazzo sono senza parole c'è ragazzi un minuto un minuto di silenzio un minuto per dir poco per la morte no 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 era bomba ho sbagliato ho sbagliato è schioppata si ok bene 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 dal cazzo sono finito andiamo a prenderci ragazzi tanto eeeh ci ma si andiamo a prenderci noi siamo figli ma cos'è quella cosa lì è andata via lo vedevate anche voi quel quadratino lì in mezzo alla mano che cacchio era oh ma basta fa esplodere le cose ma stiamo scherzando mica è un gioco di guerra e porco mondo forse è meglio non andare di qua andiamo di qua e no no ma quello potrei ucciderlo se solo fossi un po' più figo nello sparare ah è schioppato il caro armato fai che gli lancia la bomba ecco la bellina non l'ho beccato non l'ho beccato e vabbè eeeh ragazzi me ne farò una ragione ehi tu ma sei tu un medico o sei un un pseudo medico non ho capito uccidiamolo uccidiamolo ma porco mondo ma cos'è tutta sta gente che spara ma la stiamo scherzando ma ma porco ma questo non è incurabile cioè è proprio malato terminato eeeh dai ma porco ma cos'è la si proprio mandatemi una bomba atomica addosso che tanto siamo abituati così vabbè fatemi rinascere via fatemi rinascere che voglio spaccare quelli ok è nemico quello è nemico e dai ancora ma come te parchi vuole tirare io non posso tirare ma perché ragazzi ma sai lo capite non è colpa mia è proprio colpa della sfortuna non è che sono pippa è che sono sfortunato e come si dice sfortunati in amore se no scusa sfortunato nel gioco sfortunati in amore quindi potrei ucciderli se solo fossi figo però non sono figo ok dove sono dove sono dove sono ok ne ho ucciso uno ma no non volevo ricaricare ma perché volevo lanciare una bomba mannaccia carati 3 a 4 3 a 4 ho fatto cacare però diciamo che avrei potuto far cacare di più ragazzi per ora questo è tutto vi ringrazio per l'attenzione vi ricordo di mettere tantissimi piace noi ci vediamo al prossimo stronzo video ciao carissime eeeh eeeh